Oggi, 8 marzo, si celebra la giornata internazionale della donna. Il tema quest'anno, su cui riflettere, è senza obra di dubbio le violenze subite quotidianamente dall'universo femminile. Secondo recenti statistiche, ogni due giorni in Italia viene eccisa una donna. Il principale motivo dei delitti rimane la gelosia. Nel 2012 sono state 124. Numerosissimi sono anche i casi di violenza sessuale non denunciati, commessi soprattutto all'interno degli stessi nuclei familiari e nei luoghi di lavoro. Il femminicidio, quindi, in Italia è diventata una vera e propria piaga sociale. Nel suo messaggio rivolto alle donne, il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, dichiara «Quest'anno, in occasione della giornata mondiale della donna, convertiamo la nostra rabbia in azione. Dichiariamo, ha continuato, che perseguiremo i crimini contro le donne e non permetteremo mai che le donne siano puniti per gli abusi di cui sono state vittime. Rinnoviamo, aggiunto il segretario generale dell'ONU, la nostra promessa di combattere questa minaccia globale ovunque si possa annidare». Dal 1908 ad oggi, quindi, il tema della conquista dei diritti e la relativa strage delle 129 operaie arse vive nell'industria tessile, la cotton di New York, è profondamente cambiato. Il simbolo dell'8 marzo rimane comunque la mimosa. Sulla sua scelta, negli anni, si sono fatte diverse ipotesi. Molti associano il fiore all'albero presente vicino all'industria new yorkese, ci che invece sostiene semplicemente che è stato scelto perché è un fiore economico e accessibile a tutti. Infine, secondo alcune teorie prettamente idealiste, la mimosa incarna più di altri la figura della donna perché sembra essere un fiore resistente, alle indemperie e non facile da piegare. Intanto saranno in molte le donne che questa sera si regaleranno una serata diversa e dall'insegna del divertimento. Agli uomini non rimane altro che omaggiarle della tanto amata mimosa che, a dire il vero, non è poi tanto economica.